Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Game Play It, oggi siamo su Ragnorium, un gioco uscito alla metà di settembre ed è a un prezzo di 20,99€. È una sorta di survival dove andremo a ricolonizzare un pianeta, partendo, e qui entra in gioco un'interessante meccanica, all'inizio dovremmo creare una nave spaziale, lo esploriamo insieme perché mi incuriosivo a farlo direttamente con voi, non sarà un video in cui vi spiegherò a giocare, ma lo scopriremo insieme e valuteremo perché è un gioco che è uscito e io me lo ero praticamente perso. Iniziamo con un nuovo slot di partita e lo inizieremo insieme al tutorial. Hermes 1 è una colossale organizzazione, una stazione colossale spaziale, insomma quello che è, di vita, di creazione della vita e tecnologia, considerata una delle più, diciamo, innomabili creazioni umane mai create. Tu sei uno dei comandanti a bordo del Hermes 1, incaricato con una missione critica di colonizzare un pianeta e creare un nuovo capitolo nella storia umana. Usa le risorse limitate della stazione nel modo più efficiente e dispiega un piccolo vascello di colonizzazione per creare un'ottima prospettiva per il futuro per l'umanità, detta un po' al ragazzo di campagna. Iniziamo col tutorial, così iniziamo un pochino a esplorarlo insieme. In basso a destra vedete le risorse. Il tutorial ci dice che per cominciare dovremo iniziare a imparare dall'interfaccia, dobbiamo andare a spendere, ci sono stati dati 110 crediti, dobbiamo andare allo spaceship builder e costruire, grazie alla enorme stampante 3D, che anche per oggi è il futuro, la nostra nave di colonizzazione. Lo faremo velocemente, però è una meccanica curiosa. Per ogni lancio, allora praticamente dobbiamo spendere i nostri crediti per costruire la nave. Per ogni lancio otterrai 100 nuovi crediti, indipendentemente dalla missione che vai a fare. Traster slot, abbiamo al momento questo, quindi il traster quantico mark 1. Va bene, ora andiamo a creare l'all, quindi lo scafo, abbiamo il basic, all, e poi abbiamo la possibilità di mettere dei moduli. Va bene, andiamo avanti, andiamo avanti. Traster slot, fatto. Ora costruisci il cockpit, 2 hall block and 2 intersections. Ok. One cockpit. set. Ah, ok. Allora, vediamo un po'. Ora, provo a costruire l'ottocolizzazione. Ah, va bene, dai. Vediamo il modulo. Modulo, possiamo fare clone pod. E qua, non so, è un'intersezione, e mettiamo un'intersezione, così. All slot. Ah, sì, dobbiamo metterne due. E poi un intersection slot. E poi ci sarà il cockpit. Infatti, eccolo qua. Abbiamo messo il clone pod. La struttura del nostro vascello è pronta. Devi outfittarlo con il nostro cargo container e clone pod. Quindi, adesso mettiamo anche un cargo container. Basic cargo. Molto bene. E poi? Basic cargo. E un... Mi ha finito i soldi, no. Clone pod. E quindi, basta. Finito. Vedete qua, intanto abbiamo l'inventario con tutti gli oggetti che vengono messi a bordo. Mele, banane, bottiglie, legno, bende, patate, semi di patate, insomma, energy drink, le pillole della felicità, la pietra, gli steam pack dell'emergenza e le bottiglie vuote. We need 3 clone pods e 1 cargo. Sono un pirlat. Bastava leggere, tra l'altro. 3 clone pods e 1 cargo. Allora, ok. Allora, il cargo lo eliminiamo. mettiamo clone pod. Infatti, adesso che l'abbiamo fatto. Clone pod, clone pod, clone pod. Ok. Ora, il vascello è pronto. Puoi... go back. Ok. Torniamo indietro. Qua in alto. Bene. Allora, ora dobbiamo usare il laboratorio di clonazione. Molto interessante. In questa visuale hai la vista di tutte le specie di cloni che puoi fare. Per ora seleziona la categoria del... ok, di questo, in pratica. Ah, possiamo fare i vari cloni dagli arabi, gli astromian, i russi. Perché in pratica è un mondo nuovo. C'è stato un cataclisma tanto per cambiare e tutto è stato diviso in due. C'è la sezione, diciamo, della fazione scientifica e la fazione religiosa. Mamma mia. Allora, selezioniamo questo. Puoi selezionare quale clone vuoi usare nel processo di clonazione. Sono tutti diversi e tu deciderai quale portare missione con te. Io scelgo questo perché mi dice questo. non ha nessun tipo di augmentation, come dire, potenziamenti cibernetici mi viene in mente, e ci costerà 3 di questa valuta qua, che è la biomasso organica. Ok. Lo iniziamo e lo cloniamo. Abbiamo completato la clonazione. Hai bisogno di 3 cloni. Seleziono un template e start cloning. Sì, dovremmo riuscire a farlo. Ne facciamo un altro. Bene, vedete che c'è il numerino 2. Facciamo anche il terzo e quindi cloniamo anche il terzo. Ovviamente questo è un early access, quindi sembra già piuttosto interessante, però vedremo. Create cloni. Muovili al colonist roster. Ah no, sono mossi al colonist roster. La montata di cloni che tu hai sono qua. Ok, quindi abbiamo i cloni, l'organic biomass e i crediti. Bene. Bene, li abbiamo tutti qua. Andiamo avanti. Ora equipaggia questi cloni freschi dal clone pod che hai creato prima. Naviga indietro allo spaceship builder. Ok. Torniamo indietro e indietro. Torniamo allo spaceship builder e andiamo al clone pod dove daremo un posto a ogni clone che abbiamo creato. Boy a mondo ho demolito il clone pod. Ok, lo rifaccio subito. E poi vedete che c'è EQ, EQ, quindi vuol dire che è già parte dell'equipaggio. Il vascello è pronto a essere dispiegato. Torna in Dario. Mission Control. E il Research Lab ci aiuterà nelle missioni, però al momento qua non si usa. Mission Control. Possiamo cambiare il pianeta, ma in questo caso no. Start Mission. e la nave viene lanciata alla volta della colonizzazione, alla volta del pianeta. Javelin. Ok. Ragnorm e Access. Perfetto. In pratica ci viene detto che ancora delle features non finite, mancano contenuti, siate pazienti, supportate lo sviluppo e siate parte della comunità. Grazie per la comprensione, insomma. È stata una sorpresa questo gioco perché non me lo aspettavo, l'ho trovato giusto per caso. Infatti tante volte siete proprio voi a consigliarmeli e ho intenzione di fare sempre più video di ringraziamento, soprattutto nei confronti di chi dà un aiuto concreto suggerendo dei titoli. Ora, attendiamo, vediamo quanto ci vuole a partire. Ok, no. Siamo già pronti. In questa vista così abbagliante stiamo per atterrare sul pianeta. Non ho controllo. Il gioco fatto da Vitaly... Mi sono perso il nome. Colonization Vessel Javelin. Si, si chiama Javelin. Va bene. Durante il lancio della colonizzazione scegli una location dove il tuo modo sarà lanciato. Tutti i lanci futuri useranno sempre la stessa location. Eh... non so... non so... qui? Flight time. Basic cargo. Ah, ok. Possiamo lanciare i nostri omini lì. Abbiamo un tot di tempo e li lanciamo dentro questa cosa qui? Proviamo. Lanciamo tutto. Ah, ok. Ipotesi di sopravvivenza dura. Ok. Abbiamo già iniziato male. Va bene. Switch. E siamo arrivati qua. Graficamente mi ricorda molto anche Kenshi. E stanno dormendo tutti. Ok. Le nostre comunicazioni sono state stabilite, comandante. Le miei dati indicano che abbiamo bisogno di avviare la diagnostica nel nostro programma di bordo. Come ti senti dopo un così lungo viaggio su questo pianeta? Eh... sì. Mentre stavi viaggiando questo pianeta molte cose sono successe. Ma prima... non... ok. Abbiamo un tutorial da fare. Sei pronto comandante? Yes. Per iniziare dovresti provare a muovere la camera nelle differenti direzioni con WASD. Va bene. Ruota con Q ed E. L'asse è quello, diciamo, sotto di noi, come se fossimo delle persone che si guardano in giro. Devi svegliare i coloni, quello che hai bisogno di trovarli e cliccare sul pulsante che lampeggia. Allora... Locate Sleeping Colony. Questo. Allora... Ah no, questo è il pannello di ricerca. Ok. Clicco. Allora... Locate Sleeping Colony. Sì, li ho trovati. Questo è il cargo. Mi li ha scaraventati un po' tutti in giro, un po' come capita. Però sono tutti qua. Dormono. Select Active Object. No. Ma in realtà no. Non lo fa fare. Press Glowing Button in case you haven't found... Ok. Prendi il controllo dei nuovi coloni. Left Click Open Profile. Eccoli qua. Con... Assegna Capsula. Mamma mia, ma è veramente complesso questo gioco qui, eh. Ehm... Davvero complesso. Allora... Vediamo... Cerchiamo di capire. Stanno dormendo tutti. Ok. Localizzato. Cliccando lì in alto. Ehm... Ok. Si è svegliata la Capsula. Ehm... Stai attento che i tuoi coloni sono lavoratori automatizzati. Significa che non hai bisogno di interagire direttamente con loro. Ehm... Vabbè. Continuiamo a svegliarli allora. Allora. Si fa molto molto interessante questa cosa. Allora. Instant Action. Wake Up. Ok. Anche questo qui. Instant Action. Wake Up. Perfetto. Tutti svegliati. Continua. Ora... Proviamo come il lavoro automatico funziona. Ehm... È ora di collezionare e raccogliere alcune risorse naturali. Ehm... Localizza gli alberi raccogliibili. Questo. Si. Poi. No. Questo è il... Ehm... Qua c'è il cibo. Organic Max. Massa. C'è un albero qui. Eccolo lì. Cut 3. Ah ok. C'è un menu... Tutta l'interazione. Ha bisogno di... Restare questo albero. Cut 3. Ok. L'abbiamo fatto. Infatti loro adesso stanno andando. Si. Avvicina anche con il mouse. Ma neanche più di tanto. Nella realtà. No. Ma c'è la montagna. Ecco. Adesso. Sono proprio brutti questi coloni. Ehm... I coloni... Ehm... Non sono troppo impegnati. Se non sono troppo impegnati. Lavoreranno. Ok. Continua. Ehm... Per utilizzare le risorse. Abbiamo bisogno di disegnare una zona. Creare un container. Dove saranno accatastate. Ehm... Cosa dovresti fare adesso. Ehm... Scegliere un'area. Dove i coloni possono trasplotare le risorse. In uno scenario ideale. Ehm... Ehm... Noi avremo un magazzino pieno di container. Pieno di casse. Apri il menu di costruzione. E crea la resource zone. Questo è molto interessante. Perché adesso si sta aprendo tutto il gioco. Ehm... Ehm... Qua. Resource zone. Ok. Ehm... Prova a cliccare sul terreno. Dove vuoi costruire la zona. Ehm... Ehm... Poi... Ehm... Ogni zona... Diciamo di distoraggio. Nove differenti item. Ok. Poi sempre espanderla. Va bene. Abbiamo scelto un po' un luogo del pifero. Ma va bene. Vediamo. Eccola lì. Vedete nove. Ok. Va bene. L'abbiamo fatta. E va bene. Ehm... Sì. Considera di costruire un campfire. Questo... Su questo pianetale le notti sono fredde. E... Va bene. E si congeleranno senza. Ok. Va bene. Allora. Construction. Vediamo se riusciamo a fare quel simbolino del fuoco. Fire. Campfire. E lo piazziamo. Cv. Ehm... Sto riassumendo il... Il briefing. Cacchio stanno facendo. Ah no. Stanno abbattendo alberi. Ok. Ancariato il fuoco. Va bene. Ora. E hai le basi su come procedere. Ehm... Ok. Seleziona base. Ah. Ok. Userà le fondamenta per la prima casa. Ok. Ah ok. Non è proprio bellissima le fondamenta così però. Ehm... Facciamo due per due dice. Vabbè. Facciamo due per due. Dove lo mettiamo? Lo mettiamo qui. Anche se in realtà è brutto però va bene. Lo facciamo qui. Uno. Due. Tre. Quattro. Ok. Abbiamo fatto le fondamenta. Una casa per definizione qualcosa che ha almeno un'entrata e uno spazio con un tetto. Sì. Cosa vuoi dirmi? Ehm... Qualcosa con un tetto. Va bene. Per iniziare a costruire un'entrata hai bisogno di aggiungere una rampa. Ok. Vicino alla foundation. Ok. La facciamo qua. Va bene. Ehm... La tua casa ha bisogno di otto mura. Sì. Giustamente. Connesse. Ehm... Ehm... E un doorframe connessa alla rampa. Ok. Quindi. Doorframe. La piazziamo qui. Sì. Do... Sì. No. Giusto. 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 E wall. Oh. Ok. Uno. Un po' ostico all'inizio. Piazzare pareti qua. Ok. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Molto bene. Adesso si metteranno a costruire. E costruisce il tetto per quattro. Ok. Quindi. Roof. Uno. Due. Ma basterà il legno. Beh. A parte che il legno ce l'avevamo già portato. Ho. Ho tanti dubbi riguardo questo gioco. Ma. Nel senso che. Abbiamo costruito l'astronave. Ma. Adesso non so come funzionerà dopo quando. Eh. Magari potremo tornare sulla terra. Insomma. E rimandare un'altra missione. Non. Non so come funzionerà. O se lo facciamo solo una volta. Una casa è pronta per essere abitata. Va bene. Poi. Eh. Dopo. Prima di chiudere. Vedremo tutto il crafting possibile e immaginabile. Adesso. Compresa la ricerca. Comandante. Eh. Ora abbiamo il punto. Eh. Ora che abbiamo. Siamo al punto. Insomma. Dovremmo dirti qualcosa. Devo dirti qualcosa. Eh. Hai sempre chiesto perché. Eh. Devi costruire i primi edifici primitivi in legno. e i tuoi coloni sono. E perché i tuoi coloni sono nudi. Eh. Questa. Questa missione. Eh. È stata. Un. Grande rischio. Per essere preciso. Eh. Il comando di missione. Non poteva rischiare di mandare tecnologia. Su una. Piccola colonizzazione. Su un piccolo vascello di colonizzazione. Eh. Ehm. Così che l'ARC. Che è la colon. La. La fazione. Quella religiosa. Poteva interaccettare. Te. E la tua. Ah. Ok. C'è qualcosa sotto. Allora. Sono. Eh. Noi siamo discendenti del vecchio mondo. E noi. Condividiamo. Le stesse. Flows. Non so che cosa sia. Dei nostri padri. E nonostante i nostri sforzi. Di usare tecnologie. Eh. Per clonare. Un umano perfetto. È impossibile. Per noi. Escludere le emozioni umane. Questo è il perché. La missione. Il comando missione. Ha creato. Il research. Menu. Directive. Per questo proposito. Apri. Il. Research. Così. Va bene. Eccolo qua. Il pannello ricerca. Che è quello che avevamo visto prima. Completando. Gli obiettivi. Che sono. Sottolineati. Nel menu. Quello che. Vediamo. A sinistra. Sbloccherai. Cioè. Verrai. Ricompensato. Con influenza. Per la tua colonia. E questo contribuisce. Alla tua. Ai tuoi punti. Ricerca. A livello di ricerca. Sarai. Ricompensato. Con tecnologia. E ricchezze. Se. Vabbè. Sì. Insomma. Fai tutto quello che ti. Che ti dicono. Tutte le missioni. Eh. Ah. Ok. Sono tante piccole missioni. Una. Piccola. Scorciatoia. Degli attivi. Gli obiettivi attivi. E. Visualizzato. In alto a destra. Dell'ui container. Vabbè. Sì. Sono queste. Somma. Sì. Va bene. Ok. Ripotecnologia. Va bene. Ok. Si può andare. Ok. Andiamo avanti. Usa il mouse per aprire. Trova ogni colono. E apri. Col sinistro del mouse. Il loro profilo. Ok. Clicco su uno di loro. E vediamo dove mi porta il tutorial. Ok. La sezione del profilo che hai evidenziato. Questa. È dedicata agli obiettivi. Devi. Ehm. Provare a completare. Più che puoi. Per raggiungere. Il tuo. La tua influenza. E tenere. Tutti contenti. Ah. Molto interessante. Praticamente. Cos'è che diceva? Ah. È l'organo di riproduzione. A vista. Ok. No. Perché non sono droidi. Cioè. Sono cloni. Quindi sono umani di tutti gli effetti. Insomma. E sono nudi. Intanto qua. Sto portando. Vabbè. Questa sezione. Ok. Andiamo avanti. Perché ci dava tutti gli obiettivi. Questo invece è l'inventario. Con tutto quello che hanno addosso. Ma al momento direi niente. E invece questo è lo status. Che ci dice quello di cui siamo. Sono contenti o meno. Questo invece è la. La griglia delle abilità. Una delle più. Cose più significanti. Insomma. Nell'ingegneria. Puoi specializzare ogni colono. Usando le skill capsule. Che accumuli. Attraverso la tua. Il tuo viaggio. Ma odissima. Odissima. Vabbè. Questo briefing. Dovrebbe fare per ora. Dovrebbe bastare. Per ora. Immagino. Sospetto che ci siano molte informazioni processare. Ehm. Prova a raggiungere il livello 2 di ricerca. E va bene. Non hai ancora aperto il cargo container. Eh. Si. E' vero. C'hai ragione anche te. Quindi. Il cargo container. Che non so più dov'è. Quindi. Ah. Eccolo qua. Posso dirgli. Commander life. Vediamo. Era questo. Relocate. No. Non è questo. Ahia. Che è successo. Ok. Si è fatto male qualcuno. Vabbè. Allora. Allora. Cerchiamo di capire. Dov'è finito. Quel coso lì. Qui. Era qua. Qui. Eccolo qui. No. E' questo. Si. E' un po' fastidioso questa botta che da alla schermata quando vuol dire qualcosa. Cliccando con il destro puoi nascondere. Si. Va bene. No. Non mi scassare le palle adesso però. Perché sto cercando di capirci qualcosa in sto gioco. Eccolo qua. Dev'essere questo. Cargo container. Harvest. Ok. Ho dato il compito di harvestare. Quindi vedete intanto c'è uno di loro che sta andando a prenderlo. Vedete se effettivamente è nudo. Si. Per quanto siano un po' alterati i colori. E' nudo. Sembrano un po' dei personaggi usciti da Borderlands. Come dei cattivi di Borderlands. Ehm. Bisognerà fare attenzione alle riserve di cibo. Alle riserve d'acqua. E mi ricorda si effettivamente Kenshi questo gioco. Tra l'altro sono atterrato in una zona estremamente difficile. Quindi avrò bisogno di abbattere. Cut tree. Posso anche dirgli di scuotere. Overworked with a bursting task. Ok. Ho dato troppi compiti di raccolta. Quindi. E qua tra l'altro devo ancora finire la casa. Però. Ecco. Diciamo che al momento sembra essere molto molto interessante. Perché. Qui ci sono. Tutte delle cose. Da fare. Allora. Vediamo. La costruzione. E' divisa tra. Costruzioni varie. Che è quello che abbiamo fatto. Ehm. Produzione. Il crafting table. Iniziale. Poi abbiamo. Poi abbiamo tante cose bloccate. Tra comunque l'energia. Quindi potremmo creare. Oggetti. Apti a creare. La. L'energia elettrica. Abbiamo. Il fuoco. Che è il fire. Un sacco di altre cose. Zone. Di. Di risorse. E quelle speciali. Grave. Che sarebbe la tomba. Vabbè. Eh. Me lo finite. Magari la casa qua. Ah no. Banana. Apple. No. Hanno fino a nove zone. Quindi. Esso stanno tagliando. L'albero. Vabbè. Coloni e roster. Sono questi. Che li avevamo già visti. Vediamo il pannello di ricerca. Survival. Eh. Sì. Eh. Quando saliamo di esperienza. Guadagniamo il punto influenza. Che poi andiamo a spendere qui. Eh. Primo taglio. Eh. Sarebbe un po' da capire come funziona tutta questa cosa qua. Campfire. Aha. Cliccando su Campfire. Ah. Ok. Campfire. L'avevamo completato. Infatti abbiamo preso un punto influenza. Ah. Ok. First cut. Voglio vedere che cos'è. First cut. Cosa vuol dire. Eh. Shared con. Ottieni. No. Non riesco a capire. Vabbè. Intanto qua ci sono un sacco di cose che gli danno fastidio appunto. Che sono nudi in sintesi. No. Voglio vedere. Allora. Allora. Siamo fortunati di avere alberi. Abbiamo bisogno di costruire il primo edificio. È tempo di. Ok. No. Qua. Facendo questo otteneremo un altro di influenza. Eh. E lo faremo abbattendo alberi. Quindi una volta che avranno finito di abbattere l'albero. Avranno. Ottenuto. Quindi bisogna fare queste mini missioni. Adesso tra l'altro non so nemmeno se è possibile. Perché infatti poi. La cosa interessante che risponde anche alla domanda che mi sono fatto prima. È che qua. Abbiamo un nuovo lancio. Quindi. Dal giorno 2. Adesso siamo al giorno 1. Qua il requisito è essere nel giorno 2. Potremmo lanciare altre persone. E farla tirare qua. E quindi. Avremo nuove riserve di cibo. Nuove cose da portarci. Quindi. Non so se. Eh. Ma penso che. Non potremmo mai mandarci tecnologia. Appunto per il motivo di. Di non farci beccare. Da. Da quella setta. Del. Dell'arc. Quindi. Eh. Dovremmo sempre. Comunque. Iniziare da zero. Questo video. Certo qua. Poi ovviamente siamo liberi di far. Atterrare. Una. Una colonna. Un nuovo sbarco. Diciamo. In zone. Molto diverse da questa. Però. Intanto. Io ho scelto questa. Sembrava abbastanza riparata. In questo. Quella parte lì. Quella. Questa conca. Ecco. Nella conca. Questa. E niente. Allora. Stanno continuamente ad abbattere alberi. Adesso. Credo. La casa. L'avranno praticamente quasi finita. Questa. E. E. Non so. Adesso. Se hanno finito la ricerca. No. Cinque alberi. Ci metteranno una vita. Quindi. Sarà un pochino da. Da. Da vedere. Da approfondire. L'obiettivo di adesso. È ottenere punti esperienze. E ottenere set di influenza. Ne abbiamo uno. Quindi. Bisognerà mettersi al lavoro. Allora. Io per intanto. Finire qui. Abbiamo visto un pochino. La spiegazione iniziale del gioco. Abbiamo visto un pochino. Come inizia. Eh. Già. Quello che abbiamo visto ora. Dovrebbe un pochino delineare. Quello che è il suo pubblico. Se lo capirete. Inche voi stessi. Insomma. Se siete interessati. A un gioco del genere. O meno. Eh. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Come al solito. Qua sotto. Nei commenti. E noi ci sentiamo al prossimo video game play. Alla prossima ragazzi. Ciao ciao.